buonasera ragazzi e benvenuti nel mio canale allevamento amatoriale di raffaele esposito prima di iniziare con un nuovo video vi invito ad iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina grazie 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 oggi ma troppo grazie sei è e poi io le faccio faccio io così poco metto le al germane e poi mi ridono dal sole non lo faccio non lo faccio ma la mia parte è questa Buongiorno Non sono mai visti Penso siano dei brutti Ragazzi non so da dove si esce praticamente Penso di là È un avvinuto ragazzi Non so Questa è una cosa Studiata e fatta per bene Praticamente In modo che hai la possibilità Di guardare tutti gli animali Ovviamente È chiamata il best Qua c'è una lapida casellata Ragazzi di qua Grazie Stissimo ed eccolo il segretario che fa vai? oh ha fatto il nuovo che non è che l'altro sto mangiando come fa dove vuoi mettere la? io non ci ho fatto un lareggio o no? no sono fattigili mettere la grazie comunque questa è la mostra per con le armamentali ragazzi ci becchiamo ai prossimi video ciao oggi prima di lasciarvi vi invito a guardare il video per aiutare Telecom vi do l'aggiornamento che il primo giorno ovviamente non va in monetizzazione da domani il secondo giorno perché i video la monetizzazione dei video parte con due giorni di ritardo quindi domani vi mostro quello che si è guadagnato ieri e iniziamo a prendere un primo tassellino per il primo giorno qui andremo a fare ciao ciao